Cavallino Treporti, che con i suoi 28 campeggi rappresenta la più grande realtà d'Europa per il turismo all'aria aperta, si pone ancora una volta tra le mete preferite dai turisti, forte delle sue caratteristiche che la pongono in cima alle preferenze, soprattutto in questo momento ancora di massima attenzione. Nel 2020 abbiamo realizzato circa 2.700.000 presenze, solo il comparto del turismo all'aria aperta, solo a Cavallino Treporti, e non ci risulta un caso di Covid. La caratteristica della nostra vacanza, il fatto che abbiamo rispettato i protocolli alla lettera, ha consentito questo grande risultato. Un risultato che fa attendere con ottimismo l'avvio della stagione 2021, ma a preoccupare ancora il comparto sono gli interrogativi in merito agli spostamenti, sui protocolli inerenti all'accoglienza e sulla gestione dei turisti. Solitamente l'inizio della stagione balneare per le nostre spiagge, le spiagge dell'Adriatico, è la festività di Pentecoste, quando scendono in massa gli ospiti di origine tedesca. E adesso la grande domanda è questa, dal 15 maggio, quando inizierà la stagione balneare, ci si potrà muovere all'interno dell'Unione Europea e a che condizioni? Si parla appunto di questo Green Pass, sarà sufficiente un tampone per capire se uno è negativo e può arrivare, oppure saranno messi altri paletti. Questo è importante capirlo e ce lo chiedono i nostri ospiti, perché le prenotazioni per quel periodo ci sono, non le stanno cancellando, ma si stanno aspettando appunto dei chiarimenti. Mentre per il proseguo della stagione, per luglio o per agosto, le richieste sono notevoli. C'è voglia di vacanza e noi siamo pronti ad accogliere ovviamente tutti gli ospiti che vorranno venirci a trovare nel rispetto dei protocolli e in una vacanza che garantisce l'assoluta distanza e serenità, perché ne abbiamo tanto bisogno.